Bene le riaperture, ma i ristoratori rispettino i passaggi per le persone con disabilità e i percorsi tattili. Lo dichiara l'assessore ai servizi sociali di Fiumicino, Alessandra Colonna, in merito all'estensione di suolo pubblico a disposizione dei ristoranti concessa dal Comune per andare incontro alle attività in questa delicata fase di ripresa. Ricordo che la delibera di giunta stabilisce regole precise da rispettare, ha dichiarato Colonna, a cominciare dal passaggio pedonale che deve rimanere libero. Da diversi giorni riceviamo molte segnalazioni, specialmente da persone con disabilità che incontrano ostacoli. Invito dunque gestori e proprietari dei ristoranti a rispettare le norme e a usare il buonsenso nel posizionare i propri tavolini all'esterno dei locali. Il rispetto delle regole è quanto chiede anche l'assessore alle attività produttive Erika Antonelli, che promette battaglia contro il fenomeno della vendita abusiva del pesce sulla banchina del porto canale. La settimana prossima convocherò una riunione, ha dichiarato Non è tollerabile che alcuni abusivi minaccino la regolare attività dei pescatori che svolgono il loro lavoro. Per questo inviterò ad un tavolo la Capitaneria di Porto, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale per mettere insieme una task force che si coordini per contrastare questo fenomeno.